vivere cosa significa quindi io ne ho questa esperienza pace quella bene male buono cattivo credere sia vero non è vero non è importanza ma basta chiudere gli occhi chiudere la bocca credere questo è importante io sono nato in una famiglia secolo secolo fonderia del mondo io fin da nascita vedo già questa abile manualità per quello e poi studiando la cultura chi vuole diventare artista non abbandonare il mare si ricco si è povero si vuole fare fare la vita è finita il maestro è arrivato nel 56 è stato un sincero amico di nostro papà ma non solo domani il maestro compie 90 e noi oggi a me piace fare scultore la ricerca me stesso facendo questo gesto scultore o vittore la città costruisce come l'uomo se stesso e danno una città viva nel nostro periodo e nel nostro tempo voglio ringraziare a voi tutti e essere venuti questo per l'occasione credo anche papà Giovanni come di andare a letto io spesso penso oggi com'è andato bene però tante cose non è andato bene però più di così non potevo fare oggi allora farò dopo domani quello che è possibile impegno con tutta la forza per ogni cosa allora senza pentirsi o prima di morire credo che posso morire serenamente morte unica certezza di ogni essere per cultura terrena ci spaventa ma la filosofia e l'arte di azuma ci comunicano vera essenza dello spirito che in quanto tale è e rimarrà immaginiale come con la scultura il mio 141 la vita infinita che oggi ci presenta e poi la vita così mistero la vita così mistero ho avuto sempre molto dubbi l'importante quanto interessato quanto impegnato non risultato bene male permette dire fino a quello che fa tutti i giorni da SamoLent è un'azienda che ha fatto grande crescita perché ha fatto molto sempre con senso critico sempre chiedendo se effettivamente possiamo fare di meglio e siamo sempre impegnati con questo è un onore enorme oggi poterla presentare quando mi sa veramente SamoLent e soprattutto avvicinarmi alla sua arte sono contento oggi questa un pezzo rimane qua grazie a tutti grazie a tutti